La storia è triste, ma non c'è una massa di un fiore senza la testa, un paio alla misa che è in stia carta velina, però senza capè, l'andava sempre in sconda, e l'era è proprio bella, leva la testa a lei, l'embur di legna di pen, leva la testa a tonda e in esa basta un segno. E' una minuta, e' una minuta, e' una minuta, e' una minuta.